bravissimi siete contenti era ora loro aspettavano questo aspettavano il momento giusto per rompere il cazzo al palermo è veramente una vergogna io mi domando come mai hanno rovinato lo sport e più bello di tutti gli italiani si dico di tutti gli italiani perché non è possibile ancora oggi che con sto fatto sti minchia di contagi non riesco neanche a rinviare la partita e mettono sti minchia di jolly io non lo capisco un derby del genere rovinato per colpa della figc che non è stata in grado di rinviare una partita e mettere ste cavolo di regole che non servono a niente abbiamo 11 titolari uno in panchina che tra l'altro è il portiere il portiere secondario e tutto questo si è dovuto giocare nonostante le norme anti covid le abbiamo rispettate e innanzitutto la cosa ancora più grave sapete qual è che abbiamo più di 13 contagiati comunque indisponibili 13 contagiati più 2 indisponibili per espulsione sono 15 giocatori e cosa dice la figc no dobbiamo giocare perché il palermo comunque il portiere ce l'ha ma andate a fare in culo ma stiamo scherzando ma stiamo veramente scherzando giocare un derby così a ridurre veramente una squadra che per carità avremmo i nostri difetti ultimi ecco ultimi in classifica con due punti la cosa che mi fa incazzare di più è che ci hanno dato la possibilità di giocare un derby così piuttosto che rinviarlo nonostante tutte le problematiche stiamo facendo ridere mezzo italia e non solo mezzo italia mezzo mondo perché un calcio così non esiste un calcio così dove ci sono soltanto gli interessi delle persone superiori che dopo le porcate del possibile rinvio della partita playoff col frosinone non è stato fatto il fallimento e il lotito che si è messo di mezzo e sta cosa non l'hanno indagata a noi che ci hanno voluto in cia alla fine siamo falliti in serie di grazie a dei buffoni che non sono stati controllati a dovere e se c'erano anche delle intercettazioni per colpa di zamparini quarta cosa questa che è la porcata più bella veramente più bella per non dire brutta per essere ironico ecco più bella che io abbia mai visto perché non ho mai visto nel calcio moderno una squadra che gioca in 11 effettivamente perché poi contando il portiere che ora non voglio gufarla per la gotti magari rischia di rompersi giochiamo in 11 giochiamo in 11 e non succedeva una cosa del genere dagli anni 60 quando ancora il calcio non esistevano le sostituzioni che allora ci poteva anche stare qua stiamo parlando di un calcio totalmente diverso più tecnico c'è anche della corsa ma qua è totalmente un altro calcio io vada come vada venga a perdere il palermo pareggia non mi interessa io questa partita ve la stavo facendo vedere qua in questo momento per dire guardate che porcata ci sono riusciti ci sono riusciti a far giocare una partita del genere invece di rinviarla e far recuperare gli asintomatici invece no la FGC ha deciso no dobbiamo giocare perché appunto è il palermo io ora non so se fosse stato la Juve il Milan e l'Inter questa possibilità gliela davano di rinviare fatto sta che noi ci siamo giocati sto minchia di jolly che in ogni caso non capisco a che serve sto jolly se poi effettivamente ogni volta tutte le squadre si contagiano e noi abbiamo avuto una sfiga in questo inizio di stagione veramente assurda di beccarci comunque il covid e continuare a giocare ditemi voi io scommetto al 100% che al mondo non capiterà mai che faranno giocare una squadra con 11 giocatori soltanto e uno in panchina è veramente vergognoso ogni volta dobbiamo essere scippati prima Catanzaro con un calcio di rigore inesistente ora questo un calcio di rigore non pischiato a Terni ora non voglio cercare alibi ma stiamo giocando adesso con un centrale di centrocampo in difesa come difensore centrale e abbiamo un attaccante che fa il trequartista cioè ho detto tutto ho detto tutto in panchina non abbiamo nessuno ditemi la vostra ragazzi io sinceramente sono scioccato sempre ovviamente amerò questi colori che sia chiaro al di là se vinca o perda contro il Catania a me non mi interessa per me questo non è derby io avrei preferito perdere pure 10 a 0 col Catania con 20 giocatori rosa piuttosto che giocare con 11 giocatori titolari non avere nemmeno un panchinaro in difesa perché ora mo c'è il rischio che se qualcuno si infortunia o qualcuno comunque non lo so viene espulso è probabile che magari loro saranno poi in grado di farci giocare in 10 le prossime partite di campionato perché la FIGC ormai le sta sperimentando tutte contro di noi quindi veramente sono senza parole anzi già un miracolo se stampiamo un punto stasera o riusciamo a vincere non so in qualche modo comunque è stato un piacere il fatto che ho incontrato in nuovo i nostri cugini catanesi era da tanto tempo dopo 7 anni di rigiocare il derby ma questo non è derby e penso per chi è obiettivo per chi è catanese ed è obiettivo che questo non si può chiamare derby senza tifosi senza giocatori e addirittura che la FIGC permette tutto questo tanto di cappello tanto di cappello per chi continuerà a protestare contro una porcata del genere e finisco qui perché veramente il nervosismo mi sta a chiananno come si dice qua a Palermo e sinceramente non voglio diventare ancora più incazzato di adesso e un saluto a tutti buon derby a tutti ovviamente questo video lo vedrete durante la partita quindi chi si è visto si è visto e ovviamente in bocca al lupo per entrambe le squadre e ovviamente sempre Forza Palermo sempre sempre e comunque Forza Palermo Forza Palermo